Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Il futuro di Kylian Mbappé sotto la lente d'ingrandimento, svolta per la prossima squadra del francese, possono esultare anche le big italiane. Il mondiale in Qatar si è chiuso, coronando il sogno di Messi e compagni che hanno riportato la Coppa in Argentina. Nonostante ciò, in finale la stella di Kylian Mbappé ha brillato come ormai accade da anni a questa parte. Il campione francese ha chiuso da capo cannoniere della rassegna con otto reti, di cui tre in finale, e due assist vincenti. Un bottino notevole che conferma come Mbappé sarà tra gli assoluti protagonisti del prossimo decennio calcistico. L'attaccante ha compiuto ieri 24 anni ma, adesso, il suo futuro potrebbe tornare in discussione. Perché nonostante un rinnovo faraonico da 50 milioni netti a stagione fino al 2025, l'ex Monaco secondo quanto riferito da, Sport, vorrebbe lasciare a tutti i costi il PSG. Ed il motivo è chiaro. Le promesse non mantenute dopo aver accettato il prolungamento, rinunciando al trasferimento al Real Madrid. E tra le richieste di Mbappé vi sarebbe stata quella di avere una squadra più che competitiva per vincere tutto. Il francese sente che, altrove, potrebbe fare un ulteriore passo verso la grandezza. E se il Real Madrid resta in primissimo piano, adesso anche il Manchester United pare intenzionato a farsi avanti. Non solo Leao, Blaovic e Ozyman. Lo United pensa a Mbappé. Lo riporta, Tintolk. Con sottolineando come i, Red Devils, abbiano la potenza economica per permettersi un post-cristiano Ronaldo di lusso. E Mbappé sarebbe diventato l'obiettivo numero uno. Un'indiscrezione che farebbe felici anche le big di Serie A, visto che alcuni gioielli di Milan, Napoli e Juventus erano e rimangono sul taccuino di Tintolk. Da Leao a Ozyman, passando infine per Blaovic, l'esborso economico per portare Mbappé all'Old Trafford priverebbe lo United di ogni possibilità di farsi avanti per le stelle, italiane. Tutto dovrà ancora finire nero su bianco ed una vera e propria trattativa al momento non c'è. Ma l'intenzione dei, Red Devils è chiara, e anche il Real Madrid dovrà stare attento alle prossime mosse del club inglese, nella corsa al cartellino di Mbappé. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.